Raga, una giornata che è assurda, caldo, fa quasi un giorno nevica, un giorno fa freddo, può fare se c'è il sole che sta sciogliendo l'anima pure, domani porta neve, diciamo giovedì oggi, miseria, sto... Ho parchiato la macchina, mia moglie ha portato la piccola a fare la visita, li controllo, e nel frattempo io mangio qualcosa, perché ha detto io, sai che faccio, ne approfitto, faccio vedere due cose, penso a combini dentro l'ospedale, non dico ogni ospedale in Giappone, non lo so, ma da quando ho detto mia moglie, molti ospedali hanno un negozio di combini, per poter fare qualsiasi cosa, cioè, che fungono pure per spedire le cartoline, questa è una cosa assurda, c'è uno qualche di franco bolli e spedì le cartoline, c'è una lettera da mandano, una cosa, c'è tutto quando, cioè, a parte mangiare come sei, ma tutti i combini avete visto, l'alleggimento è più piccolo, ci sta pure la zona prelievo, ci sono i distributori automatici, la cosa che mi fa ridere, c'è i distributori automatici dei pigiami, dei pannolini pure, anche nell'ospedale, questo ospedale è una figata enorme, ovviamente mia moglie è concessa entrale a me no, discorso, covid, come al solito, quindi, un po' di tè, questa è una cosa zuccherata, un botto, green, tè al limone, quindi è uno dei miei preferiti in assoluto, è una botta di zuccheri assurda, ho preso, onigiri dà paura, vediamo un po' se riesco a fermare il sole in fascia, questo qua è una bomba, lo sono riuscito a vedere, metto più, ecco, metto all'ombra, vedete, perché mi vede da me che qua sotto sembra che sono illuminato dalla luce del signore, la luce divina, perché il sole ma ce l'ho proprio in fascia, questo qua è salmone, raga, salmone grigliato ma è una figata, questa costa 198, vedete che c'è il prezzo, c'è il prezzo di partenza, più poi le tasse, in Giappone funziona sempre così, trovate prezzo di partenza e poi trovate le tasse, ovviamente adesso siamo al 10% di ricarico, più o meno, il 10%, vediamo a vedere, questo io l'adoro, io salmone, l'ho dato matto in Giappone, per salmone anche se a volte quello che si mangia in giro non è sempre giapponese, ma viene importato, mamma mia cotore, ora faccio la macchina fra poco che comincerà a profumare di alga e salmone, i nuovi profumi del 2021, alga e salmone in macchina, idratutto, è buono o forte, una cosa però, ho toccato il focus e è sparita la luce divina del signore, ho saprime i miei video in macchina, sembro tutubo anche io, tutubo anche io, non c'è la scoprata di lasagna e 2 kg di tiramisù, però siamo a versione giapponese, tutubo anche io a versione giapponese, però c'è sempre un botto di riso, ma ripiene sempre poco, io non mi riuscirei a saziare questa roba, il giapponese è capace che si sazia uno o due di questi, se fossi due di questi qua si tende pure pieno, io bu, secco ma, perché chiederà se il parcheggio si paga, se il parcheggio si paga, meno questo ospedale qua, tutti gli ospedali più meno si paga, però devi portare il ticket all'interno per registrare, perché a volte c'è gente che utilizza pure il parcheggio per fare altre cose, c'è una scuola vicino, c'è una scuola, c'è uno ufficio, quindi il parcheggio è grosso, veramente enorme, lo usano non solo per, per questa cosa qua, però c'è un viavato assurdo, sembra strana stavola in Giappone, la sanità si paga, quindi, oggi mi è arrivato pure, il plico, è così raga, delle vaccinazioni per mia figlia, fino a sette anni, avrà da perversi vaccinare, c'è una caterva enorme di vaccino, deve fare, qua non scappi, perché, quando registri la nascita di un figlio, c'è l'ufficio che si occupa, se vengono registrati poi, tramite l'ospedale che ha fatto il parto, tutte le visite, tutte le visite, c'è proprio, mia figlia ha una carta di identità, di tutto quello che fa, e se non fa, nel periodo predisposto, i vaccini, chiamano, perché in Giappone, come puoi fare, come cavolo ti pare, i vaccini obbligatori, e tutti li fanno, ovviamente sono il primo, che vi dice una cosa del genere, sui social, perché io ho mia figlia, e sto facendo queste esperienze, e sto vedendo la vita, come sta cambiando, ovviamente, se c'è una cosa particolare, io ve la dico, poi vi chiedo a voi, di farmi sapere nei commenti, com'è da voi, se non siete, Nord Italia, Centro, Sud, io non la so, non avevo mai avuto figli, né pensato di avere figli in Italia, quindi non ho idea, di come funziona in Italia, e come funziona in Germania, chi mi segue dalla Germania, dell'Inghilterra, chi mi segue dalla Canada, gente che sta in Asia, mi segue, Australia, come funziona da voi, da questo genere, si stava aprendo già, perché la fame, questo è il regular, lovesome, chicken nuggets, po' di fritto, che ci stanno, questo è quello proprio da portare via, che ci sta pure, come si dice, lo stuzzicadenti per infilzare, li pensano tutte, per infilzare, lo pollo, questa è una botta di calorie, mi sa, e ognuno di 44 calorie, per ogni pollo, come si presenta, ah, sai di pollo, boom, momento catartico, sa di pollo, pure la macchina profumerà di pollo, dopo, poi io mangio, scusate che mi è partito, perché è pieno, non è secco l'interno, buono, buono cazzo, io mangio, passo a salmone, grigliato, a pollo, proprio io, mi manierei pure, non mi mangio pure sedile, io stomaco, ma mangio di tutto, raga, ma pure quando andate, l'izakai in Giappone, a ristoranti tipici, ci stanno, c'è gente, ordinate, pesce, carne, verdure, vi voglio assaggiare una cosa fritta, un po' un'altra cosa, grigliata, un po' di pollo, un po', quindi, mi sto abituando in Giappone, che non c'è un senso, manco quando mangio, 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 carne, verdure, la zuppa, la cosa, sta bibita, che è una delle aziende più famose in Giappone, che non solo accogli, ci fa anche roba bibita, questa qua, riesco a trovare l'eventuale, non ti lo dice manco, a parte c'è lo 0,1% di limone, questo limone ha visto un foto, c'è una persona, secondo me, venne pagata, per tenere il limone in mano, passano le bottiglie, di far vedere il limone, quello 0,1% di limone, però, che ho fatto, lo fanno solo vedere, non ce lo mettono dentro, buono, dovrei fare un video, dove assaggio tutti quanti, gli polli, dei combini, li compro tutti quanti, Lovesome, 7-11, Family Mart, e poi faccio tipo, un video, gli assaggio e vedo, decido quale è migliore, ci stanno, due non mangiati, cinque pezzi di pollo, buono, ci sta pure la pista, di elicottero qua, adesso sperare, qual'era la cosa, che vi mangiavate, quando state in Giappone, di sera combine, perché se sono in hotel, c'è la fame, c'è la nace, che definì di mangiare, poi non finisci mai di mangiare, mangi sempre, quindi, visto che c'è combini, sempre attaccato a ogni cavolo di hotel, lo fai, va a svaliggiare a combini, e poi vai in camera all'hotel, lo faccio io, che quando mi sposto con mia moglie, che lo svaliggiamo ogni volta a combini, immagino che lo fate pure voi, cosa vi mangiate, dove andate, dove andate con la testa, cosa andate a prendere, che tipo di bibite andate a prendere, direi che ci sta, cosa so, saranno, poco intorno l'una e mezza, visita, oggi la visita l'avevamo fatta tardi, me mangio l'ultimo, non posso, capito perché, i combini sono una bomba, ti salvo una vita, perché alla fine poi, la sovietta, che dovrei usare all'inizio, masticarsi, la uso ora, così dopo non metto, non tocco tutto, quando lo sterzo con l'undo, non lo pollo, ragazzi, fate bravi, ma quando capita, perché quando c'è una figlia, e molti di voi, avevano figli, mi dicono, faranno così che la testa, ma c'è la ragione Giovanni, ogni tempo è prezioso, io mostro dieci minuti, faccio un video su una cosa, che non ho mai fatto, man mano, che la bambina crescerà, la porteremo, ovviamente in giro, io non la porterò tanto in città, abbiamo la macchina, andiamo in qualche zona, più di periferia, sarà più bello, anche mostrarevi, qualcosa di totalmente diverso, anche con una sendale diversa, non sempre centro città, centro città, un bacio, un abbraccio, vi saluto, quando chiudo il video, voglio un rutto, quello accanto a me, farà così con le mani, quello accanto a me, che sta paccheggiando, aspettato pure la moglie, un bacio ragazzi, fate bravi,